Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. Viítulo il nostro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. mondiale 2015 e l'assemblea mondiale dei abitanti che ha riunito molto più di tunisi in 2013 e 2015 faccio la sintesi, 2013 e 2015 foro sociale mondiale numero 1 e numero 2 in Tunisia, 50-60 mila partecipanti in questo quadro, l'alleanza di protezione degli abitanti con le altre reti hanno organizzato, abbiamo organizzato nell'ultimo in particolare 15 attività autogestive e ringrazio anche Walter Rapportone che aveva presentanza dell'Unione Inizia ha trovato una grande parola. Una mano, come dire, magica. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti gli altri. Per noi, tunisiensi, dopo 4 anni, c'è un esuffimento della società civile e quindi queste attività per me sono sorpresi perché ho visto molti miei copaci tunisiensi venire assistere alle attività e scrivere dei mail di soddisfazione. Quindi diritto alla casa, diritto alla città, sfratti, cooperative eccetera, molta partecipazione per tutto il mondo, quest'anno c'è stata anche maggiore partecipazione di tunisini e questo è servito molto per il sedersi della società civile tunisina con questi ultimi 4 anni e magari tutte le battaglie. Quindi ci sono molte mail di ringraziamento per il risultato di questa assemblea e riceverete in breve la dichiarazione finale di questo testo che si è un po' definito con le altre rete internazionale. Per concludere, per concludere, per concludere, l'espoir, perché il fatto già di essere qui, per me, e di vedere i risultati del lavoro di tutti i membri dell'Unione L'Equiline e di tutti i miei amici, per me, per ci sono molto bella, per il lavoro di fare con noi. Per noi, per me, per fare una proposta, noi stiamo in train di organizzare per i prossimi mesi ultimi mesi ultimi mesi, per per l'Iquiline, ma anche e soprattutto, noi stiamo in train di organizzare in quanto società civile in Tunisie, per rimanere dei militanti, dei grandi organizzazioni di città, come voi, per venire fare delle formazioni con noi e per fare un intervento per cominciare concretamente a ottenere dei risultati positivi e a cominciare a lavorare per ricostruire. Da una parte un invito a partecipare al Corso Sociale Urbano Mondiale che sarà archito l'anno prossimo nel 2016 e l'altra cosa invece, visto che siamo dei rimpettai, fanno un po' di scambi per una formazione perché anche loro vogliono organizzarsi come organizzazione società civile per organizzioni abitanti, organizzazioni pubili, di lotta concreta, c'è molto da imparare, molto da scambiare, quindi ha trovato questa occasione per fare questa proposta. Abbiamo bisogno di vostro supporto perché il governo tunisino non può entendere parlare del diritto alla causa. Abbiamo bisogno del vostro, del nostro appoggio per il governo, il tunisino non vuole sentire parlare del diritto alla causa. Grazie a tutti i compagni che hanno mandato dei messaggi di solidarietà dopo l'attentato terrorista del museo in Bardo. Quelli che sono venuti personalmente per sostenerci, che sono rimasti e che hanno detto che ritorneranno. Grazie.